Ecco, del dono della vita, perché comunque non è scontato e quindi ogni giorno, ogni anno è il mio compleanno, forse per questo mi piace fare grandi feste, no? Dici, ma scusa, fai 36 anni, che ti festeggi? Invece per me ogni anno è una conquista, veramente. Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, luce nella società. Grazie per aver scelto i nostri contenuti e quest'oggi ho il piacere di presentarvi una donna che ho avuto il piacere di conoscere anche sui social e avrò anche il piacere di presentarvela qui in questa puntata, Benedetta De Luca. Grazie per essere qui con noi. Grazie mille a voi per l'invito, è un piacere. Grazie anche perché hai risposto sui social quasi in maniera immediata, quindi grazie per la disponibilità, è molto importante e sono sicuro che tratteremo argomenti interessanti. Allora io di solito la prima domanda che faccio un pochettino anche per rompere il ghiaccio e per introdurre un po' l'ospite agli ascoltatori è un po' esistenziale, però comunque ci dà un modo comunque di rompere il ghiaccio. La domanda è, se dovessi rispondere alla domanda chi è Benedetta, cosa risponderesti? Magari qualcuno ce lo sta anche chiedendo chi è Benedetta e quindi rispondiamo a questa domanda. Benedetta è una ragazza come tante sicuramente, è di 35 anni, quindi ragazza possiamo ancora dirlo. Sì dai, 35 anni di ragazza possiamo ancora dirlo. Vive a Salerno, adesso parlo in prima persona, così mi è più facile. Sono laureata in giurisprudenza ed è una ragazza coraggiosa. Lo voglio dire, dai, è una ragazza coraggiosa, me lo dico, perché ha affrontato tanto nella vita. Ho affrontato tanti interventi chirurgici, ho affrontato quasi 12 anni in un letto di ospedale. E questo perché sono nata con una malattia rara, la genesia del sacro. È una malattia che colpisce uno su 60 mila nati, quindi vedi tu che fortuna. Forse al super in una lotta avrei azzeccato di più. Però è una malattia che comunque mi ha portato tanta consapevolezza ad oggi, devo dire la verità. Ad oggi sono anche una donna forte, oltre coraggiosa forte, perché ho superato tutte queste sfide, ma le ho superato sempre col sorriso. Parliamo oggi di luce, questa luce che mi ha un po' guidato sul mio cammino e c'è sempre stata da quando sono piccola. Ad oggi sono anche un avvocato, mi sono laureata in giurisprudenza e sono una gender inclusion editor per The WOM. È una prima figura in Italia e tratto sicuramente tematiche di inclusione, valorizzazione della diversità, ma anche parità di genere. Sicuramente tematiche che vivo costantemente sulla mia pelle, sia in quanto donna, ma in quanto donna con disabilità. E poi sono una content creator. Non mi piace dire influencer perché molte persone ancora non colgono, perché c'è un po' di confusione attorno al mondo dei social. Quindi content creator mi piace un po' di più, perché io creo contenuti sui miei canali social, ma creo contenuti anche, spero che siano di valore. Io ci metto tutto il mio cuore possibile per mandare appunto i messaggi di cui ti parlavo prima, appunto di inclusione, di disabilità, ma far conoscere il mondo della disabilità sotto un punto di vista diverso. Anche magari con un sorriso, far vedere anche le difficoltà, perché poi dire che tutto è rosa e fiori non è sempre così. Quindi far vedere tutto della disabilità, ma lontano da luoghi comuni, lontano da tristezza, lontano da paternalismo e quindi ci proviamo ogni giorno. Quindi direi questa è benedetta. Tu hai scritto anche un libro, Una vita della Sirenetta, appunto, che devo dire, cioè io immaginavo, racconti un pochettino la tua vita sotto praticamente mille sfaccettature, che un po' ce l'hai accennato qualche piccolo aneddoto già in questa piccola presentazione, però è molto interessante anche la chiave con cui scrivi questo libro, che a volte è anche ironica, che al suo tempo comunque fa riflettere. Quindi è comunque un libro che consiglio, che si può trovare su Amazon. Sì, ovunque, in tutte le librerie. E quindi consiglio anche perché uno si entra comunque in un mondo che spesso se ne parla troppo poco, però infatti la chiave di lettura con cui ne parli è comunque molto molto interessante. Quindi lo consiglio onestamente e ne parleremo comunque anche di questo libro, appunto. Te praticamente ci hai raccontato che fai tantissime cose, no? Ci hai raccontato anche della, tra virgolette, sfortuna, che poi ne racconti anche come se hai trasformato un po' questa sfortuna in una fortuna, l'hai rilaborato un pochettino, di essere andata con questa patologia, no? Nel libro racconti anche un po' l'infanzia e c'è un collegamento un po' con la favola della Sirianetta, appunto, no? Com'è stata un pochettino quindi la tua infanzia, ecco? Sì, partirei proprio magari dal titolo del libro, il titolo Una vita da Sirianetta, magari perché proprio questo titolo, cosa hai a che fare tu con la Sirianetta? Questo perché la mia malattia nella forma più grave prende il nome di sirenomelia, quindi alcuni bambini nascono proprio con le gambe attaccate come le sirene. Da bambina per me quindi la Sirianetta non era una figura molto amata perché anzi avevo il timore della Sirianetta. Poi vedi il cartone, il classico Disney della Sirianetta e anche lì, diciamo, era l'unica principessa dalla quale io mi sentivo rappresentata perché anch'io come lei volevo un paio di gambe, volevo camminare, volevo correre, proprio come lei lo canta nella canzone. Però ecco, crescendo cosa ho voluto cambiare? Ecco, nella mia favola ho voluto scrivere una nuova favola. Mentre la Sirianetta, magari Disney ha rinunciato alla sua voce, ha rinunciato alla sua coda per far innamorare il suo principe, io, come ho scritto anche sulla copertina, ho come imparato ad amarmi con una coda di troppo. Nel senso che io questa coda me la tengo e che vi piaccio o no, nel senso io ho voluto amarla, ho voluto amare la mia coda e non ho voluto rinunciare alla mia voce, quindi penso che un po' tutti dovremmo fare così, nel senso non rinunciare alle nostre caratteristiche, non rinunciare alle nostre unicità, ma anzi amarle, abbracciarle, accoglierle. Ed è per questo che vorrei che tutti, disabilità o meno, perché poi tutti noi abbiamo delle differenze che magari ci fanno anche soffrire. Ed è sbagliatissimo, ma perché? Perché appunto ci temiamo il giudizio degli altri. E quindi ecco da dove parte un po' questo titolo del mio libro. E tu mi hai chiesto la tua infanzia, la mia infanzia sicuramente è stata un'infanzia burrascosa, è stata un'infanzia che purtroppo annebbiata, perché, dico questo termine, perché tante cose io ho voluto un po' dimenticarle, quindi tanto dolore, tanti sacrifici, però era una bambina sempre sorridente. Io nel libro, c'è una mia foto dove avevo tipo la febbre a 40, però ridevo, ridevo. Io invito tutti a farlo, quindi dico, vedete, se lo fa una bambina sofferente, che comunque in quel momento sicuramente la tristezza e il dolore erano tanti, perché non poterlo fare noi da adulti? Cioè ci arrabbiamo per tante cose, per una bolletta, per un litigio, per il traffico. Questo va proprio al mio fidanzato che si arrabbia sempre nel traffico. Quindi perché ci arrabbiamo per tante cose, quando invece magari forse l'unico rimedio è il sorriso. E poi l'infanzia, magari, non so, continuo, ti dico anche dopo, un percorso proprio di vita, come appunto perché il libro è autobiografico, quindi ho raccontato un po' il mio percorso di vita. Dall'infanzia poi, in realtà, parte tutto dalla storia d'amore dei miei genitori. Quindi ho voluto raccontare anche quella, perché per me è stata proprio una vera e propria storia d'amore. Purtroppo non finita bene, però per me se dovessi rappresentare l'amore sono l'oro, perché c'è stato poi un forte legame anche dato dalla sirenetta. Però non voglio spelerare molto, però nel libro vi spiego perché proprio poi questa sirenetta. Cioè io sono qui anche perché i miei genitori si sono incontrati, anche per questa figura che poi scoprirete leggendo. E quindi poi crescendo, però ovviamente sono andata a... Allora, le scuole elementari ci sono andate a poco, perché ero sempre in ospedale. Quindi adesso si è parlato fortunatamente, non più, ma della dad, della didattica a distanza. Io ho rivissuto un po' quella mia infanzia, perché anch'io facevo i compiti a distanza. Non c'erano i computer, cioè stiamo parlando veramente di un'altra epoca a momenti, ma non c'era il computer, non c'era niente. Mi arrivava solo questa busta gialla gigante e all'interno c'erano tutti i compiti. Ero già felice quando ero in ospedale, perché aprivo quella busta e mi sentivo una bambina normale. Dico, ok, devo fare i compiti come tutti gli altri bambini. E quindi per me quello era un momento di gioia. Pensa tu i compiti. Pensa tu. Cioè spesso tipo nel libro racconti come se hai vissuto un po' il tiro all'infanzia dentro una bolla, no? Sì. Però comunque sì, uno dice i compiti magari, cioè per i bambini comunque, sono sempre visti comunque qualcosa di cavolo, no, basta. Però comunque sì, il fatto che ti identificavano, ti facevano comunque identificare i compiti come qualcosa di normale come gli altri bambini è qualcosa di interessante, comunque di curioso, no? Poi sei uscito da questa bolla, no? Sì. E il mondo non è stato così piacevole come uno sembra, no? Magari uno si carica spesso di aspettative, spesso di... nell'immaginario collettivo di un qualcosa che magari potrebbe succedere, ma in realtà non succede, no? E quindi hai parlato anche nel tuo libro di bullismo, no? E in più io... A me piace molto... Ho trovato molto interessante anche la figura dell'insegnante, come deve essere davvero quella figura importante per il bambino, anche perché... La figura forse educativa per il bambino. Ci vuoi raccontare un pochettino quello che è successo? Sì, ecco, hai detto benissimo, perché io penso che l'inclusione è trasversale, quindi parte dalla famiglia, ma passa poi dalla scuola, dallo sport, dalla comunicazione, ci mancherebbe, però la scuola dovrebbe aiutare a rendere il mondo più inclusivo, comunque ad educare soprattutto non solo i genitori, ma anche gli alunni, ad essere più gentili, più accoglienti, più, appunto, inclusivi. Per me non è stato così, purtroppo, perché mentre magari nella mia famiglia mia mamma mi diceva, puoi fare tutto, Benedetta, io ci credevo, no? Nel senso, io dicevo, vabbè, se mia mamma mi dice posso fare tutto, posso fare tutto. In realtà la prima volta che capì che era una bambina diversa fu in classe, a scuola, perché organizzarono una gara di ballo, quindi io lì mi dimisero seduta, tu dai voti, e tutti ballavano, io seduta a guardare gli altri e capì che c'era qualcosa in me che non andava. Quindi tornai a casa in lacrime, abbracciai mia mamma e dissi, mamma, perché sono una bambina diversa? Mia mamma, oltre che piangere, non poteva darmi una risposta, quindi fu lì quel momento che ci abbracciamo fortemente e capimmo che non c'era una risposta a quella domanda, che però si può accogliere la diversità, quindi dire diverso non ci deve far paura. Magari io, è vero, non potevo ballare, ma se magari a scuola avessero organizzato, non lo so, una gara di disegno, magari avrei partecipato anch'io. Ed infatti, anzi, ti racconto un altro aneddoto che poi mi ha fatto capire che è vero, io magari non potevo entrare nel mondo degli altri, ma potevo fare entrare gli altri nel mio. E fu proprio in una, mi trovavo in un miniclub, sai, miniclub dei bambini, e mentre tutti i bambini giocavano a nascondino, a mosca cieca, io sempre seduta, sempre da sola, inizia a disegnare, inizia a disegnare tante cose, le sirenette, i draghi, vabbè, di tutto. I bambini erano incuriositi, no? Quindi iniziarono tutti a sedersi attorno a me e iniziai ad essere importante, iniziai ad essere importante per loro e quindi non correvano più. E tutti attorno a me, io in quel momento mi sentivo finalmente apprezzata, apprezzata non dagli adulti, perché era un po' scontato, ma dai bambini. E iniziai a commissionare disegni a tutti. E da lì ho capito, ok, benedetta, non potrai ballare, ma puoi fare altro, puoi fare altro e magari gli altri li fai entrare nel tuo mondo. Poi c'è stato un episodio triste, un episodio molto doloroso, che ad oggi racconto, ma perché vorrei che nessun altro ragazzo, bambino, si sentisse sbagliato? Perché io mi sentivo sbagliata in quel contesto e fu, quando fui vittima di bullismo, come hai detto tu, è stata tutta colpa purtroppo di un insegnante, cioè nel senso tutto partì proprio dall'insegnante. Perché io non fui inclusa in una gita, perché piena di barriere architettoniche, già questo voglio dire non è normale. Io ero piccolina, ma già capivo che c'era qualcosa che non andava. Dissi perché io no, cioè non è giusto. E questo insegnante mi disse, Benedetta, ti devi rassegnare, devi capire che non puoi fare tutto nella vita. Ero appena adolescente, ma quella frase ovviamente mi rituono nelle orecchie, nel cuore, nell'anima, perché fece male, fece male e poi mi si rivoltò tutta la classe contro. Solo un'amica, no? Mi fu molto vicina e anzi, dico anche magari ai ragazzi di oggi, no? Che sono tutti molto... Si pensa che più hai tanti amici e più sei forte. Invece io in quel momento avevo solo un'amica che mi sette vicino e quell'amica, ecco, veramente è stata per me più di mille amici, perché lei mi ha dato la forza poi di andare avanti e di andare in classe ogni mattino, ogni giorno, che per me fu doloroso. Anzi, in riunione della sorte io volevo anche cambiare scuola, ma l'altra scuola era anche meno accessibile, quindi affrontai il colpo, però avevo quell'amica che mi stava vicino e dissi, ok, posso farcela e devo farcela. Infatti poi, altro che non puoi fare niente nella vita, ho preso quella frase e quando sono arrabbiata dico, no, adesso ti faccio vedere che in realtà posso fare tutto nella vita se solo, ecco, magari un ambiente pronto ad accogliere la disabilità. Perciò vorrei che nessuno si sentisse mai sbagliato, fuori luogo, fuori tempo accolto in questo mondo, quindi... Secondo te quanto è importante il lavoro della scuola su queste tematiche oggigiorno? Secondo me è importantissimo, però vedo che c'è più sensibilità, ma anche perché c'è più condivisione. Ad esempio, adesso vengo invitata spesso nelle scuole, no, quindi io da piccolina ricordo che non ho mai assistito a una testimonianza di qualcuno che magari raccontasse la propria esperienza, quindi mi avrebbe fatto piacere sentire magari una storia simile alla mia e mi avrebbe dato forza, coraggio, invece non mi è mai capitato e quindi già che adesso magari io vengo chiamata, ma io come me e tante altre persone, anche un vostro ospite che è stato qui, Raffaele, quindi c'è molto più sensibilità all'argomento e io penso che si deve partire proprio già da piccoli ragazzini, già dalle scuole elementari, già è importante, queste forme di testimonianze sono importantissime. Qual è l'ambiente che trovi nelle scuole quando vai appunto tu in visita? È un ambiente molto bello, nel senso sicuramente per me è una grande rivincita, lo confesso, egoisticamente un pochino anche per me, perché ecco sono tornata anche per esempio nella scuola dove sono stata bullizzata, quindi tornare lì e parlare con le ragazze e i ragazzi di questo argomento è stato per me un modo per dire vedi Benedetta ce l'hai fatta e stai portando la tua testimonianza adesso. Quasi una cura. Esatto, quasi una cura, quindi però è un ambiente, soprattutto i giovani di adesso sono giovani molto sensibili a queste tematiche soprattutto la generazione Z ci crede molto nel valore delle unicità, nella possibilità di credere nelle proprie capacità, potenzialità però li vedo un pochino più timidi, confesso, nel senso mentre noi magari non ci relazionavamo solo con gli smartphone anzi ero già grandicella quando sono arrivati i primi sms, loro invece si relazionano molto più con uno schermo del telefono ma quando devono prendere il microfono in mano diventa tutto più complicato e io però li invoglio a parlare perché io voglio che loro interagiscano con me, domande e risposte perché voglio che si sentano parte del discorso e quindi piano piano sto capendo che a fine chiacchierate insieme dobbiamo assolutamente fare una botta e risposta perché voglio sentire anche le loro storie e quando poi si affidano mi fanno domande tipo Benedetta come hai fatto ad accettarti o comunque per me è bello, è bello condividere con loro. Poi diciamo che la pandemia non ha aiutato sicuramente questo perché diciamo che l'unico momento di interfaccia visiva si chiude la scuola, si chiude la scuola, fine, magari forse ha migliorato qualche ambiente familiare però noto anche io che sono un pochettino molto più sensibile, un po' molto più timidi però speriamo che si possa migliorare, si possa ristabilizzare o questione anche di trovare meccanismi di comunicazione diversi anche per trovare collegamento con loro. Tu hai parlato di bullismo, hai parlato, ci hai accennato un po' l'episodio del bullismo e oggigiorno si può parlare anche di bullismo online. Te come sei riuscita a trovare appunto in te all'epoca, all'adolescenza, quella forza per poter andare avanti, per poter rialzarti proprio emotivamente? È stata la mia famiglia, cioè mia mamma in particolare, quindi lei ha sempre detto io oggi mi hai detto se sei piccolina ho con me la spada e lo scudo, poi cresci però ti lascio la spada e lo scudo quindi per me è stato un modo per capire che un giorno dovevo farcela da sola però non era quello il giorno, non quando ero piccola e quando fui vittima di bullismo lei fu molto al mio fianco nel senso, però quando hai come figura di riferimento sulla tua madre a quell'età è comunque difficile perché senti il bisogno di essere comunque capita, ascoltata anche dai tuoi coetanei a parte quell'amica di cui prima ero veramente molto sola e questa cosa ne ho sofferto tantissimo forse per questo poi crescendo mi sono circondata di tanti amici forse è stata una sorta di... avevo bisogno proprio di avere amici al mio fianco e fortunatamente poi crescendo ne ho avuti tantissimi quindi questo mi ha fatto capire che non ero io sbagliata ma forse è questo il concetto che chi è vittima di bullismo deve capire che non siamo noi quelli sbagliati, non siamo noi quelli deboli ma sono chi ci attacca perché persone che ti... allora se c'è una critica costruttiva ad esempio anche sui social io la colgo, ne faccio anche tesoro ma quando quella critica in realtà è un'offesa quindi si cela dietro un'offesa allora lì non ti do neanche modo di offendermi perché so che tu in quel momento non cerchi un dialogo, non cerchi un modo per... e quindi o cancello per esempio quando mi succede sui social o cancello il commento oppure rispondere sì ma non mai in pubblico perché quella persona vuole solo questo cioè nel senso non... esatto, vuole soltanto visibilità vuole soltanto attaccarti e quindi magari prova a scrivergli in privato e poi magari faccio un piccolo appello ricordatevi sempre che c'è anche una legge sul cyberbullismo quindi non pensiamo che le persone dall'altro lato della tassiera possono fare tutto quello che vogliono ma c'è la legge che ci tutela quindi se siete vittima comunque di un reato grave qual è la diffamazione o comunque di un reato di cyberbullismo grave affidatevi assolutamente alla legge perché è giusto che sia così non dobbiamo dare modo agli altri di denigrarci senza motivo se tu dovessi incontrare Benedetta piccola cosa diresti a lei? ma sicuramente l'abbraccerei forte direi che andrà tutto bene forse questa è la frase che mi volevo sentire dire da bambina perché poi i medici a me non davano tante speranze di vita quindi sicuramente ero piccola non potevo capire però io ho sempre vissuto con questa paura di non farcela quindi di non arrivare... cioè per me ogni compleanno era una conquista proprio alla vita un dono che appunto mi era stato dato e quindi le direi che andrà tutto bene ma in realtà anche il mio medico quando andai a visa disse senti Benedetta ti devo dire una cosa tu è vero dici che hai problemi reni, hai paura ma guarda che io non ci avrei scommesso un euro sul tuo avere a 30 anni ho detto grazie dottore non è proprio carino però era un modo per dirmi ce l'hai fatta quindi si infira di te ed è ovviamente dei tuoi... ecco del dono della vita perché comunque non è scontato e quindi ogni giorno, ogni anno è il mio compleanno forse per questo mi piace fare grandi feste no? mi dici ma scusa fai 36 anni che ti festeggi invece per me ogni anno è una conquista veramente ci sta comunque cioè ho visto anche sui social che una tua parte della tua vita è anche la moda e io credo che anche attraverso la moda hai comunque voluto lanciare un messaggio un messaggio comunque dell'inclusività ci puoi parlare di questo aspetto? assolutamente, un aspetto per me, a me molto caro alle volte può sembrare la moda un argomento frivolo nel senso penso a bella ma la moda che argomento sciocco invece a me il mondo della moda mi ha aiutato tantissimo sotto vari punti di vista, sia un po' per contrastare un po' l'indifferenza della gente non lo so, magari volevo far capire che anche una donna con disabilità è bella, è femminile, elegante come qualsiasi altra donna sì anche perché di solito il mondo della moda è sempre legato alla perfezione anzi poi perfezione, anzi anche determinate patologie come anoressia certo, purtroppo perché ci sono dei canoni di bellezza ben prefissati invece tu sfondi praticamente questi concetti ci proviamo però la moda è meno esclusiva oddio, non sempre però diciamo si sta aprendo un po' nuovi orizzonti quindi io ci spero sempre che magari domani uno stilista mi chiami e mi dici qual è la tua idea di moda adattiva? io ne parlo magari perché ecco attraverso il mondo della moda si possono mandare dei messaggi importanti quindi mentre prima magari l'esclusività, scusami la parola, era la moda invece adesso vorrei che l'inclusività diventi ecco veramente alla moda e l'idea, allora tutto è nato un po' per la mia passione sicuramente passione poi ho organizzato diverse sfilate di moda anche con modelle con disabilità e vedevo proprio la difficoltà vabbè la vivo anche sulla mia pelle ogni giorno nel vestirsi quindi mentre magari le modelle senza disabilità si vestivano in due secondi le modelle con disabilità avevano più fatica e ho detto sì vorrei un abito però elegante perché se parli di moda adattiva in Italia ci sono anche altre realtà ci mancherebbe però nella maggioranza dei casi trovi magari tute, pigiami che va bene però non è solo quello vuole un bell'abito lungo paillettes, lustrini e quindi ho fondato questo mio brand però per adesso è fermo e spero magari un domani di rimettermi ecco in gioco ed è un brand appunto con l'idea di creare abiti eleganti ma pratici per chi ha una disabilità e quindi ti faccio un esempio ho creato un abito tutte paillettes però solo davanti perché dietro per la seduta diventano scomode e fanno male quindi ho voluto creare questo abito tutto con le paillettes davanti oppure un altro abito con delle piume che però si staccano quindi la seduta è comoda poi tessuti traspiranti tessuti non scivolosi quindi piccole accortezze che ovviamente è un abito per chiunque ma che se ha una disabilità diventa più comodo e poi la moda sicuramente ecco vediamo sulla passerella di alta moda a New York vediamo modelle con vitiligine vediamo modelle con sindrome di Down e ci tengo a chiarire sono modelle strapagate cioè non è che sono modelle che fanno volontariato perché magari uno dice beh poverine le mettiamo le no sono modelle a tutti gli effetti quindi vorrei che questo concetto arrivasse anche in Italia sarebbe veramente bellissimo però qualcosa sta cambiando sì a volte l'importante è arrivare non è che però a volte l'Italia ci mette un po' troppo tempo però ripeto l'importante risultato finale almeno essere aperti esatto almeno già essere aperti già è qualcosa questa apertura alla moda ne hai parlato un pochettino in Italia c'è però comunque è molto importante uno come hai detto tu può sembrare qualcosa di frivolo cioè nel senso ci sono mille battaglie tra virgolette che le persone con disabilità devono affrontare vai a pensare proprio alla moda però anche quella è una forma di inclusione è una forma che ti fa sentire che rompe praticamente le barriere che noi la società comunque ha costruito e quindi portare un messaggio anche su questo secondo me è molto importante e fondamentale io vedo che qualcuno sta ripostando ho visto pure Chiara Ferragni che spesso parla anche su questo argomento però è molto importante appunto parlarne quindi sì nel tuo libro spesso parli anche di amore e spesso con la tua ironia comunque parli come se spesso la società non identifica per le persone con disabilità appunto come se fossero propensi all'amore ecco quando invece non è così quando è importante anche parlare di amore o anche di sessualità all'interno della disabilità secondo te? qui è il tabù nel tabù diciamo non è quando parlo di queste tematiche sicuramente è difficile è difficile perché devi veramente scaraventare tutti i muri possibili e quindi diventa complicato però lo fai sempre con ecco con intelligenza nel senso cerchi di far capire che comunque una persona con disabilità ha desideri e impulsi come tutti cioè nel senso non ci deve essere una discriminazione però c'è ancora questo limite c'è ancora questo limite io mi sono affacciata a questo mondo perché magari io non la vivo sulla mia pelle questa problematica però è tutto iniziato dal aver letto un libro non so se posso dirlo è un libro di Giorgia Wurt che si chiama L'accarezzatrice l'ho letto nel 2013 mi sembra quindi ero veramente molto piccola ma quel libro mi ha aperto un mondo su questo scenario e ho visto quanta difficoltà c'è dietro al mondo appunto della disabilità e sessualità poi ovviamente dobbiamo anche capire che la disabilità ha mille sfumature quindi c'è ovviamente persone con disabilità più grave meno grave e si parlava all'epoca però di un'assistenza sessuale in Italia che però non è ovviamente stata approvata per una serie di tematiche e io mi sono un attimino voluta mettere nei panni di queste persone e dire anche la sessualità è un diritto e chi non può magari ecco scegliere di esprimere la propria sessualità in maniera autonoma diventa veramente difficile quindi quel libro mi ha aperto un mondo che mai avrei pensato ecco perciò dico alle volte non è che dobbiamo solo guardare le nostre problematiche magari aprirci anche ad altre persone ad altre problematiche è importante e c'è un ragazzo che si chiama Maximiliano Olivieri che lui tratta queste tematiche con professionalità ma soprattutto giorno dopo giorno e lui che si fa promotore di questa tematica in prima persona e anche lui non ne ha bisogno perché è padre quindi però anche lui fa onore che comunque porti avanti questa tematica e quindi invece per quanto riguarda l'amore quello l'ho vissuto sulla mia pelle perché per esempio io l'ho detto anche scherzando nel mio libro ma mi viene detto alle volte mi è successo una volta che una signora mi disse scusa ma il tuo badante cioè invece era il mio ragazzo questa frase mi scioccò praticamente e disse io devo dirlo perché parlando condividendo puoi abbattere questi muri quindi si costruiscono ponti attraverso le parole e ho capito che c'era qualcosa di sbagliato proprio nella collettività nell'immaginario collettivo appunto per quanto riguarda l'amore e la disabilità fortunatamente mi è successo poche volte però poi dicendolo mi sono arrivate tanti altri messaggi di persone su Instagram e quindi tante persone mi hanno detto sai anche a me è successo allora ho detto cavolo è una cosa abbastanza diffusa e non è normale perché alla fine ognuno deve essere libero di esprimere cioè l'amore io penso che l'amore non ha limiti nel senso perché una donna con disabilità un uomo con disabilità non può essere innamorato cioè cosa c'è di male sicuramente ci sono dico anche questo e lo dico con ovviamente criterio ci sono anche delle difficoltà è vero cioè nel senso non è che dobbiamo dire anch'io quando ero più piccolina quando mi approcciavo ovviamente i ragazzi temevo di non piacere per la mia disabilità temevo di andare a un primo appuntamento e dire ma io adesso come gli dico che ho una disabilità sai quante volte davvero una ragazzina andavo in discoteca ero un po' pazza andavo sempre a ballare mi sono calmata le nove già ho sonno e quando andavo a ballare io nascondevo le mie stampelle la mia carrozzina e quando conoscevo un ragazzo si avvicinava e diceva andiamo a ballare io dico no guarda mi fanno male i tacchi e il tocco a spilo non è vero gli nascondevo la mia disabilità cioè adesso crescendo mi faccio una risata però dico ecco ero insicura avevo paura di mostrarmi con la mia disabilità e quindi vorrei che nessun altro adesso lo facesse più perché se mi avessero detto la mia bambina la mia ragazzina adolescente non temere cioè chi ti ama ti ama cioè non è che la tua disabilità impedisce di amarti e già questo è un primo passo ecco quindi quando ho iniziato ad amarmi in primis io ho detto se mi ami bene se no questa sono io questo è il pacchetto con tutto il fiocco dico sempre al mio ragazzo lui dice guarda che il problema non è la disabilità sono tanti altri fattori sei interdataria sei disordinata poi la disabilità chi se ne frega nel senso è un po' come dire sei biondo occhi verdi è anche una disabilità e poi le difficoltà sicuramente anche se dovessero sussistere perché alle volte può succedere di trovare barriere architettoniche eccetera eccetera si affrontano insieme e quindi questo è l'amore poi è bello affrontarla a volte in due e condivide appunto i propri problemi che non per forza sono appunto le disabilità ma ci possono essere altri tipi di problemi ok ci fermiamo qui per questa prima parte della storia di Benedetta di Luca io vi ringrazio per aver ascoltato i nostri contenuti e vi invito anche a consultare le puntate precedenti e quelle che verranno sulle nostre principali piattaforme quindi su youtube cercando Hop Media Italia Spotify Apple Podcast e Google Podcast cercando Social Light Podcast inoltre vi invito anche a seguire la nostra pagina Instagram in cui pubblichiamo dei video della puntata che viviamo come sempre ogni mercoledì alle ore 20 quindi vi invito a cercare Social Light Podcast su Instagram e grazie per l'ascolto e vi è una buona serata e vi è una buona serata